Fare solo ciò che è davvero utile per il paziente, nel modo migliore, nella massima sicurezza, è soltanto a chi ne ha veramente bisogno. Efficienza, efficacia e competenza sono le parole chiave per garantire ai cittadini un servizio medico soddisfacente e allo stesso tempo un modello organizzativo che faciliti il lavoro ai dipendenti delle aziende sanitarie e ospedalieri. Un traguardo raggiungibile solo attraverso un costante confronto tra gli operatori del settore, come quello che ha riunito a Palazzo San Giorgio a Trani medici, avvocati ed esperti, nell'ambito di un convegno organizzato dalla ASLBAT per parlare di appropriatezza e sicurezza delle prestazioni sanitarie. Non si può parlare di sicurezza se non c'è un corretto approccio all'appropriatezza delle prestazioni, prestazioni intese come prestazioni sanitarie, cliniche, appropriatezza prescrittiva, appropriatezza diagnostica e anche con la sicurezza che però è un argomento che evidentemente per la sua polidricità prevede l'intervento in ambito ASL, in ambito aziendale, di un gruppo multidimensionale di professionisti, perché si parla di sicurezza delle tecnologie, si parla di sicurezza dei luoghi di lavoro, si parla di sicurezza delle strutture, si parla ovviamente della sicurezza del know-how dei singoli medici. È giusto che ogni azienda sanitaria si doti di un'organizzazione che controlli e monitori costantemente il livello di esecuzione di ogni singola raccomandazione calata nel singolo reparto. Questo ha beneficio della sicurezza delle cure dei pazienti. L'obiettivo è quello di individuare le buone pratiche in campo sanitario e sfruttare al meglio le risorse anche economiche a disposizione per fornire le risposte più corrette alle richieste di salute dei pazienti. È chiaro che noi nella verifica del nostro fabbisogno interno, non soltanto di personale ma anche di bisogno tecnologico, noi abbiamo puntualmente accertato quelle che sono le situazioni meno carenti e quelle invece nelle quali bisogna fare un investimento di risorse. È evidente che il livello di qualità e di sicurezza delle cure passa anche attraverso una dotazione che sia adeguata, che sia anche strutturata non soltanto da un punto di vista quantitativo ma soprattutto qualitativo.